Carla, io ci trovo una logica qui. Tu accetti le cose troppo facilmente. Ha ragione, è vero. Visto, l'hai fatto di nuovo. Ho suggerito una cosa e tu subito d'accordo. Ha ragione, è vero. Perché ti comporti così? Non lo so. Io credo che o temi il rifiuto o temi la disapprovazione. Ma non devi preoccuparti di queste cose. Sì te stesso, punta ai piedi. Non permettere alla gente di calcolare. Ehi ma... Dottor Sobol? Mi scusi, siamo in seduta. Sì sì, lo vedo. Mi scusi. Ma lei non è quello che ho tamponato ieri sera? Bravo. Levati di mezzo. Cosa? Su con le chiappe. Dottor Sobol? Non ha un cappotto il matto. Ehi ma che sta facendo? Sta uscendo. Non va da nessuna parte finché non ha finito la seduta. Ti do 100 dollari se ti levi di mezzo. Non li prende. 150. Ma cosa faccio? Carl. Non è mica tanto matto. Aveva ragione, ho puntato i piedi. Non l'hai fatto al momento sbagliato. Gli ho fatto raddoppiare l'offerta. Sono molto fiero di te. Mi sento un altro uomo. Grazie. Ne sono felice. Grazie. Grazie. Grazie.